Sono stati presentati a Cagliari i risultati ottenuti in un anno di lavoro del progetto FUZ.2, un progetto fortemente voluto dall'Agenzia Sarda per le politiche attive per il lavoro, in collaborazione con la Regione Sardegna e COI Accademia Neogastronomica. È nato per promuovere le produzioni sarde di qualità e mercati in forte crescita attraverso il confronto culturale e per garantire un percorso di formazione avanzato ad un gruppo di giovani cuochi ed esperti. Questo nasce grazie all'assessorato lavoro, all'Aspal, alla nostra agenzia Aspal, che è sempre attenta a tutte queste innovazioni, per creare questa formazione mirata e quindi continuiamo a dire che la formazione mirata sarà quella che poi porterà davvero il lavoro di qualità e farà in modo che l'economia vada avanti con questo momento bellissimo che c'è stato in uno scambio con la Corea, con il fatto di andare là, di capire chi arriva qua, quali sono per esempio i suoi gusti, quali sono se dobbiamo imporre gli nostri nel senso di presentargli le nostre bellezze. Un progetto tutto rivolto ai giovani sardi per condurli verso l'acquisizione di importanti e specifiche competenze in materia di food economy. Quindi sia i mestieri, le professioni legate alla ristorazione, al cibo, ma anche un'importantissima esperienza di conoscenza di quelle che sono le caratteristiche dell'export dei prodotti sardi. Tra le due edizioni hanno partecipato 20 giovani. Abbiamo fatto una selezione all'ingresso per individuare le professionalità che secondo me potessero essere più adatte a svolgere questa attività e di questi, di 5 la prima edizione, 4 la seconda, hanno partecipato fattivamente al progetto in Corea. Al momento il progetto è in fase di chiusura, i ragazzi, una volta rientrati dalla Corea, stanno tutti lavorando in aziende sarde di eccellenza.